Musica Amici di Raiuno, buongiorno e buon inizio di settimana. Primo lunedì di settembre, la viabilità è intensa, soprattutto lungo le direttrici che conducono ai centri urbani con la ripresa delle attività lavorative dopo il weekend, favorita dal bel tempo, ma condizionata dalla pioggia sulla Seila Torino-Savona e dalla nebbia in autosole e tracole ferro e frosinone. Vediamo le immagini, come di consueto, ecco flussi intensi di traffico, qui siamo a Fiorenza e anche al Monte Porzio-Catone, come vedete flussi veicolari vivaci in entrambe le direzioni. In primo piano abbiamo una criticità in autosole e al momento ci sono sei chilometri di code per un tratto chiuso a seguito di un camion in fiamme tra Fidenza e il bivio della 15 Parma-La Spezia in direzione Bologna, dove è indicata l'uscita obbligatoria proprio della 15 Parma-La Spezia per chi è diretto a Bologna. Poi abbiamo per programmati lavori di manutenzione, code per due chilometri, sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa in direzione Firenze e anche un incidente in area capitolina, esattamente sul grande raccordo anulare, allo svincolo 27 della Cristoforo Colombo in direzione Appia. Ecco queste al momento le notizie di Maggiorilievo, grazie per l'attenzione ed Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità un buon inizio di settimana e vi aspetto tra poco all'interno di uno mattina. A più tardi, grazie.